naziste, io sarò chiara come già abbiamo dimostrato concretamente, noi consideriamo doverosi quegli indennezi e penso che lo abbia dimostrato l'avvenuto aumento che lei cita tra l'altro nell'interrogazione, la ringrazio per questo, nel 2023 del fondo che era stato istituito a questo scopo nel 2022 e quindi non può esserci no da parte del governo un intento dilatorio ostruzionistico perché non avrebbe senso decidere di spendere, di distanziare delle risorse e poi impedire che quelle risorse vengano spese, quindi noi abbiamo già dato un'indicazione chiara che io ribadisco anche oggi in quest'aula, però questo non toglie collega Maggi che l'avvocatura generale dello Stato debba fare il suo lavoro, in questo caso il suo lavoro consiste nel verificare che sussistano i presupposti per ottenere questo risarcimento che significa la ricostruzione del fatto storico all'origine del danno fino al rapporto di parentela che lega il richiedente alla vittima, atteso che visto il tempo trascorso noi parliamo soprattutto ovviamente di discendenti, la completezza del contraddittorio non è disattenzione verso le vittime, è rispetto della legge e ovviamente sempre tenendo in considerazione e rispettando la piena autonomia del giudice, quindi questo lavoro che alcuni leggono come un tentativo dilatorio è invece dal mio punto di vista un lavoro che è in ogni caso necessario perché noi non dobbiamo dimenticare che le risorse che stiamo utilizzando sono comunque risorse dei cittadini e quindi è nostra responsabilità gestirle nel modo più corretto possibile, credo sia soprattutto questo il lavoro che sta facendo l'avvocatura generale dello Stato, ma la nostra intenzione su questa materia come lei sa è molto chiara. Grazie, a facoltà di replicare il deputato Maggi. La ringrazio Presidente, ringrazio la Presidente Meloni per la risposta che però non è soddisfacente perché al di là delle esagerazioni giornalistiche che magari possono esserci state, tutti noi abbiamo letto quelle che io continuo a ripetere anche dopo e a ribadire come giudizio anche dopo la sua risposta, delle argomentazioni vergognose quando si sostiene che per la troppa tenera età delle vittime, dei parenti della vittima, forse non c'è stato un danno concreto che merita un risarcimento, credo che non siamo nell'ambito delle verifiche opportune che vanno fatte e che è giusto che si facciano ogni volta che si parla di risorse pubbliche. Credo piuttosto che la dinamica sia un'altra e credo anche che in particolare il Sottosegretario Mantovano che conosce bene questo dossier ce l'abbia presente, cioè credo che l'Avvocatura si muova su una razio meramente economica. Ma allora se il problema è che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che si deve trattare non di semplici indennizi ma di veri e propri risarcimenti, quindi noi abbiamo proprio poche risorse in quel fondo, io oggi mi sarei aspettato da lei la proposta di aumentare quel fondo e di farlo tutti insieme con una proposta trasversale o magari farlo con un decreto, uno dei tanti decreti che ci propinate in questo caso avrebbe avuto ragione di esserci un decreto. Bene, aspetto che arrivi ancora dal Governo questa proposta, altrimenti la faremo noi e questo sarebbe un modo di celebrare sabato prossimo la giornata della memoria in maniera non retorica ma pienamente sentita, vissuta e in maniera da riconciliare tutto quanto il Paese con la propria storia. Passiamo all'interrogazione numero 3935 presentata dai deputati Barelli ed altri che ha ad oggetto politiche del Governo in materia di privatizzazione di società a partecipazione pubblica. Il deputato Casasco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario. Prego. Grazie Presidente. Presidente Meloni, nell'ultima nota di aggiornamento al documento di economia e finanza il Governo ha inserito tra gli obiettivi della manovra di finanza pubblica la vendita di partecipazioni pubbliche per un importo pari all'1% del PIL. In questi giorni sono state effettuate molte notizie di stampa che parlano di cessioni di quote detenute dallo Stato in grandi aziende pubbliche quali Eni, Poste e Ferrovie dello Stato. Lei stessa, Signora Presidente, ha preso posizione su queste indiscrezioni con un'efficace intervista televisiva sull'ottima azione svolta dal Governo fino ad oggi. Le privatizzazioni e soprattutto le liberalizzazioni sono da sempre un tema politico che è molto caro alle politiche economico-liberali di Forza Italia e a tutto il centro-destra. Le chiediamo, Presidente, pertanto, di illustrare al Parlamento e al Paese quale politica economica intende attuare il Governo in materia di privatizzazioni al fine di rendere più efficienti alcuni settori della nostra economia. Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgio Meloni, ha facoltà di rispondere. Collega Casasco, confermo. Il Governo, come peraltro è scritto nella Nadef, lo ricordo perché insomma l'ho letto che qualcuno ha tirato fuori la notizia come se fosse uno scoop, lavora dalla Nadef in poi a un piano di razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato dal quale sono attesi i proventi pari ad almeno l'1% del PIL, quindi circa 20 miliardi di euro in tre anni. È un obiettivo ambizioso, certamente, ma è un obiettivo alla nostra portata. E voglio dire che io concordo pienamente sul fatto che le privatizzazioni non debbano avere come unico scopo quello, diciamo così, di fare cassa per ridurre il debito pubblico, ma che debbano invece essere considerate anche uno strumento di politica industriale, un fattore di sviluppo dell'economia italiana. E posso confermare che è esattamente questa la strategia che ci muove. Quello che noi vogliamo fare è un approfondimento strategico che porti a una razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato secondo un approccio che è abbastanza semplice, e cioè ridurre la presenza dello Stato laddove non è necessaria e affermare la presenza dello Stato dove invece è necessaria, come ad esempio negli asset strategici. Significa la possibilità di ridurre quote di partecipazione statale che però non compromettono il controllo pubblico, significa la possibilità di far entrare i privati in quote minoritarie di società che oggi sono interamente sotto il controllo pubblico e significa anche dal mio punto di vista la possibilità di garantire una presenza dello Stato dove oggi non c'è, anche in forma azionaria, per affiancare i poteri regolatori e di golden power che sono già previsti. Abbiamo avviato, come sapete, questo percorso con la vendita delle quote del Monte dei Paschi di Siena, dopo l'annuncio della procedura di vendita accelerata del 20% delle azioni rivolte ai grandi investitori, nel giro di poche ore noi abbiamo ricevuto una domanda di oltre 5 volte superiore all'ammontare iniziale e rivisto l'offerta dal 20 al 25%, cosa dimostra? Dimostra ovviamente un interesse per il sistema Italia e dal mio punto di vista è stato anche un bel segnale per gli italiani che dopo anni che hanno visto uscire miliardi di euro che andavano al Monte dei Paschi di Siena hanno visto anche rientrare una parte di quelle risorse. In sostanza, collega Casasco, non si tratta di privatizzare per privatizzare, non si tratta di dismettere o, peggio ancora, di svendere, perché, come ho detto e ribadisco, l'impostazione di questo governo è lontana anni luce da quanto abbiamo purtroppo spesso visto accadere in passato, quando con privatizzazioni si chiamavano regali miliardari fatti a qualche fortunato e ben inserito imprenditore. Quelle non sono privatizzazioni e non hanno niente a che fare con il libero mercato, ma ricordavano piuttosto quanto è accaduto con gli oligarchi russi quando si è dissolta l'Unione Sovietica. Non sarà mai il nostro modello, con questo governo non sarà possibile che queste vengano chiamate privatizzazioni. Grazie. A facoltà di replicare, il deputato Casasco. Signora Presidente del Consiglio, la ringraziamo per la risposta della quale Forza Italia si richiara soddisfatta. Forza Italia, con il suo segretario nazionale Antonio Tajani, è stata la prima forza politica a porre in estate il tema delle privatizzazioni. Un tema che non era nel programma di governo, ma che ha sempre fatto parte della politica del centro-destra. Questa iniziativa, che voleva essere un contributo offerto da un movimento politico, che a un forte DNA liberale, a distanza di un mese e mezzo, si è trasformata in una proposta politica del governo, inserita nell'ultima noto di aggiornamento al DEF, in cui si mette nero su bianco la proposta di dismissioni di partecipazioni pubbliche per circa 20 miliardi. In questi giorni si è compiuto un ulteriore significativo passo avanti con la dichiarazione del Ministro Giorgetti e con la sua intervista televisiva. Forza Italia è convinta che avviarsi con decisioni sulla strada delle privatizzazioni abbia un doppio vantaggio. Il primo, estremamente concreto e tangibile, è quello di garantire nuovi rilevanti introiti da destinare alla riduzione del debito pubblico, che purtroppo è ancora troppo elevato. L'altro riguarda gli effetti positivi che può produrre l'ingresso dei privati nelle gestioni di imprese, che oggi sono talmente a maggioranza pubblica, marcando così un cambio di passo nella politica economica garantita dalla fiducia e dalla stabilità che questo governo consente. Le privatizzazioni sono anche liberalizzazioni, rafforzano il sistema economico e rendono più efficiente la gestione dei servizi pubblici.